Ho un'informazione vitale da consegnare. Partii con un veliero per portare il mio messaggio, ma i venti termici provenienti dalla scheda madre abbatterono il mio albero. Le tempeste elettromagnetiche mi hanno portato lontano, su un'isola deserta, da cui scrutavo l'orizzonte e gli spazi di questo disco con il mio cannocchiale. Poi è arrivato un tizio su una barca. Gli ho chiesto, chi sei? Mi ha risposto, nessuno. Mi ha rotto il cannocchiale e se ne è andato. Ho provato a mettere il mio messaggio in una bottiglia, pensavo, siamo nella rete, nodo attraverso nodo, almeno lui arriverà. Mi ha risposto il demone delle email, nessuna possibilità per il mio messaggio, destinatario non trovato. Ora è un SOS perpetuo nella rete. E senza destinatario, il mio destino non si può compiere. Metappino. Si fa in fretta a dire rete, pensi che sia un sostegno infinito, e invece è solo una trappola vischiosa. E dire che mi avevano detto che su questo disco non c'era molto spazio, eppur mi sono perso. Ehi, c'è nessuno? Ehi, c'è nessuno?